Angelo Caroccia una nuova sfida con un'unione di centro a sostegno di Mario Baccini come mai questa decisione? Cosa si aspetta? Beh, è una scelta di campo diciamo io dieci anni fa sono stato eletto con la mia squadra nell'Udc, quindi nel 2013 ero già nell'Udc poi nel 2018 abbiamo presentato il simbolo uniti nel centro che risfrecchiava sempre l'Udc quindi è una continuazione di quello che ho fatto dieci anni fa quindi continuiamo con questa sfida è una sfida sempre proiettata alla crescita di Fiori Cimeno io ho fatto in questi dieci anni l'assessore in maniera coerente e convinta che questa città debba crescere e continuerò con questa sfida ulteriore a cercare di portare questo paese sempre più in alto il mio piccolo contributo è chiaro la squadra è formata dal sindaco dagli assessori dal consiglio comunale e quindi io tra la mia piccola il mio piccolo contributo anche in questa occasione per far sì che questo territorio diventi sempre più importante sempre più città con più sì e meno no Come mai ha deciso di lasciare la maggioranza? Lo dico poco anzi con più sì e meno no perché è uno spostamento troppo a sinistra del PD con tutta quanta la coalizione una coalizione con cui ho lavorato benissimo in questi anni però io parto dal presupposto che bisogna dire dei sì non dei no voglio far sì che questa città cresca sempre di più pertanto ho appoggiato il sindaco Baccini proprio per questa motivazione è un po' di più